Le restrizioni in Alto Adige potrebbero far balzare le prenotazioni in Abruzzo per la stagione sciistica sul Gran Sasso. Come già accaduto in estate, la situazione potrebbe alimentare un turismo invernale più massiccio nell'Aquilano. Ma è solo un potrebbe per ora, perché nella realtà con l'allarme che c'è in giro anche il Gran Sasso ne risente. Gli operatori turistici, come fa presente Ada Fior di Gigli, che gestisce l'omonimo Hotel in quota, dopo tante manifestazioni di interesse, vedono le prenotazioni in un momento di stand-by. Una situazione confermata anche dalla scuola sci a Sergi Gran Sasso, diretta dal maestro di sci Luigi Faccia. Arrivano in realtà molte richieste di informazioni, ma per il momento sono solo richieste. Questa è una speranza, perché poi purtroppo la campagna mediatica è nazionale e la paura è stata ingenerata in tutti. Anche noi stiamo ricevendo una serie di comunicazioni di stand-by su eventuali prenotazioni o informazioni, quindi cominciano anche da noi. Il movimento delle scuole, che spesso veniva da voi per fare i corsi in occasione delle settimane dello sport, si sta rimuovendo? Qualcosa si sta muovendo. Abbiamo tre richieste da Teramo, abbiamo fatto i preventivi di tre scuole di Teramo. Speriamo che questo clima di allarme non continui, però abbiamo tre richieste da Teramo. Intanto gli operatori turistici del Gran Sasso, una trentina, hanno dato vita ad un comitato per affrontare problemi urgenti, come quello dei vincoli ambientali. Hanno attaccato la politica, colpevole di farsi viva solo in occasione delle tornate elettorali. Il comitato degli operatori turistici, che comprende albergatori, ristoratori, commercianti e anche la scuola sci a Sergi, andrà a supportare le attività e progetti che già da anni stanno portando avanti gli attivisti di Seve Gran Sasso e di Progetto Montagna. Questo consorzio di imprenditori farà delle richieste concrete per risolvere quei problemi turistici minimi che sono lì a Fonte Cerreto. Magari essere interpellati prima di adottare alcune misure, tipo magari l'isola pedonale. Seve Gran Sasso, Progetto Montagna continuerà e a breve dovremmo informare la cittadinanza che la battaglia per l'infrastrutturazione del Gran Sasso è quasi persa.